Gioacchino Genchi, avvocato di grido, esperto informatico, è stato vicequestore a Palermo e ha collaborato con magistrati del calibro di Giovanni Falcone e Luigi De Magistris. Le sue indagini sono state usate per la strage di Via D'Amelio in cui perse la vita, tra gli altri, Paolo Borsellino è stato accusato da Silvio Berlusconi di un presunto scandalo sulle intercettazioni ma scaggionato totalmente dai giudici del riesame e il suo archivio segreto è stato dissequestrato. Avvocato tra i più ricercati d'Italia, Genchi, in concomitanza con lo sciopero dei penalisti, ha detto la sua sul separazione delle carriere, termini della prescrizione che dal 1 gennaio 2020 si blocca dopo il primo grado di giudizio, corruzione e il gastolo ostativo. La pena mira alla rieducazione del condannato, non può rappresentare una tortura, non si può costringere un soggetto a godere di un beneficio a condizione che possa rendere delle dichiarazioni dopo 20, 25, 30 anni, peraltro quando quelle dichiarazioni non servono a nulla. La collaborazione va premiata quando serve a accertare dei reati che sono stati commessi e comporta la dissociazione del soggetto che è attivo nell'organizzazione mafiosa. Parlando sempre di giustizia, nel 2020 entra in vigore la nuova regolamentazione per le prescrizioni nei processi. E veda, anche questo secondo me è un qualcosa in cui il luogo comune, la disinformazione, se vogliamo anche l'ignoranza, anche da parte di alcuni addetti ai lavori, siccome i processi durano tanto aboliamo la prescrizione e li facciamo durare a vita. No, la giustizia è un qualcosa che deve arrivare immediatamente, subito dopo il fatto. Anche questa è una vera e propria vendetta nei confronti di soggetti che vengono tenuti per tutta la vita con la clava, col peso sulla testa di un processo in corso, con dei costi che peraltro sono anche impressionanti. Altro tema scottante è la separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e magistrati giudicanti. Ecco, se ne parla tanto ma non ci sono novità. Lei che pensa su questa separazione? Ma la separazione già esiste, non hanno il coraggio di volerla ammettere, perché oggi il Pubblico Ministero in Italia non è più un soggetto imparziale della giurisdizione che cerca le prove anche a favore dell'imputato e dell'indagato. Agisce solo in una direzione, è già un soggetto che si è reso parte, si è staccato dal contesto di quell'ordine giudiziario. Giovanni Falcone fu uno dei primi assertori della separazione delle carriere. Il magistrato Raffaele Cantone, un giorno prima di lasciare l'ANAC, ha denunciato il grave fenomeno della colluzione in Italia e non ha escluso né il Molise né l'Abruzzo da questo drammatico fenomeno. Sì, devo dire anche un po' con un certo ritardo, se vogliamo, perché Cantone è stato un bel po' a fare quello che ha fatto, anziché denunciarlo alla fine probabilmente si sarebbe potuto sorprendere un po' prima. E detto con tutta sincerità, la devo dire, insomma, che se guardiamo questi apparati degli organi che sono stati negli anni preposti alla repressione di questi tipi di reati contro la pubblica amministrazione nelle regioni dell'Abruzzo, del Molise e mi consenta anche della Puglia, probabilmente ci accorgiamo che questo deficit statistico che Cantone lamenta dipende più dal mancato accertamento di reati che dalla mancata commissione di reati.